Si alzano una prova a premato a un'unità di presenti, 13-18. Sui 12 minuti a favore, votiamo anche l'idea da esemplare l'alto. Ci resta la seconda prova, ci si alzano una prova, con lo primo a premato a una generazione di presenti, 15 minuti a favore. Adesso passiamo a un sessione ordinario di una formulazione. Signore, quindi, buon tavolo, gruppo del centro, approvazione del dazio e due precedenti. Rientra il consigliere Salva. Allora, prego il consigliere Salva, pregiudiziamo. Presidente, spero di non sbagliarmi e ricordarsi che mi sbagli per l'ennesima volta, ma vorrei far presente a te, segretario, che su questa seconda convocazione devi fare l'appello, non puoi procedere diretta. Grazie. Salve, non è chiesto. Assolutamente. Allora, se la prego procediamo a fare l'appello, se non ci vuoi mettere un attimo, non sarebbe presente. Grazie. 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 Assente, il suo antico, presente, la legge di Rosa, assente, il mio di Berneta, presente, la Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La reazione del bilancio di previsioni finanziari 2018-2020, l'applicazione di vota accantonata e destinata ai investimenti del risultato di investizione finanziaria 2017 per l'importo di euro 380.466. La reazione del bilancio di previsioni finanziari 2018-2020, l'applicazione del bilancio di previsioni finanziari 2018-2020, la reazione del bilancio di previsioni finanziari 2018-2020, l'applicazione del bilancio di previsioni finanziari 2018-2020, Grazie a tutti.